Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana, sulla Grosseto Fano scambio di carreggiata per lavori tra Alberoro e Monte San Savino in direzione Monte San Savino, su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in entrambe le direzioni. Sulla FIPILI fare attenzione per vento forte lungo tutto il percorso, per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e per i lavori alla linea 2 della tramvia all'incrocio tra via dello Statuto, via 20 Settembre e piazza della Costituzione, istituito un senso unico sulla direttrice da via 24 maggio verso il ponte di via Crispi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!